Lo steggia presso il Superstore Sicoli. 160 studenti di 5 diversi istituti hanno dato vita a martedì scorso alla tredicesima edizione del progetto Crescere nella Cooperazione, una iniziativa promossa dalle BCC marchigiane durante la quale bambini e ragazzi hanno presentato le attività imprenditoriali realizzate durante l'anno scolastico. Con foto, video, musica e balli anche quest'anno il palcoscenico del Cinema Politeama è stato un susseguirsi di esibizioni intramezzate dal cantante Fabio Barnisi in artefango e dall'ape cooperativa. Sicuramente una prospettiva di far capire quali sono i valori della cooperazione che veramente è unica perché incontrare i ragazzi che hanno fatto un'esperienza insieme, si abitano a collaborare è fondamentale. Tra l'altro, lo dicevo prima, i valori della cooperazione sono anche nella nostra Costituzione e la storia è centenaria, quindi cooperative nei diversi settori e qui viene fuori veramente una rappresentazione di questa varietà. Un successo confermato per la BCC di Fano che dal 2007 partecipa al progetto regionale e crede in maniera particolare nell'educazione dei giovani, ai valori della cooperazione, della mutualità e della solidarietà. Venerdì ad Ancona ci sarà la fase conclusiva, la premiazione finale a livello proprio regionale, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi ma sono sicura che le nostre scuole sono state come sempre bravissime. Grazie